...e H2O, H di oxigeno, hanno bisogno di due valenze per avere così la saturazione con l'oxigeno che vale due volte per drogherlo. Sono fuoco, 3.000 gradi, l'acqua si scende e il combustibile e il condolente diventano fuoco, per cui quest'acqua è fuoco, altissima temperatura, non è vero che quando si spengono gli ingermi non si usa dubito l'acqua perché l'acqua si scenderebbe, l'idrogeno e l'oxigeno e la fiamma divamperebbe di più. Guardate il mistero che l'idrogeno, l'oxigeno, due elementi di fuoco, comunemente combustibile, poi messi insieme diventa un'acqua, acqua potabile, acqua fettissetta, acqua fettissetta, acqua fettissetta. Così l'acqua è un mistero in natura. È un mistero in natura perché solidifica non come tutti gli altri elementi a zero, oltre a zero, ma a quattro di temperatura, perché questo è providenziale. Se dovesse solidificare a zero gradi, tutti i mari sarebbero gelati e noi non potremmo più vivere. Invece acquista la massima densità a quattro gradi. Se arriva a cinque, sei gradi comincia a diluirsi la densità. Se si scende oltre tre, quattro, aumenta il volumen. Se noi mettessimo così l'acqua in realtà inferiore, allora tutti i mari sarebbero ghiacciati, non ci potrebbe vivere. Mentre la massima densità è a quattro gradi. Questo consente la vita. poi noi parliamo di acqua, invece bisogna parlare di acqua, perché ci sono tante peculiarità nell'acqua. Questo a livello razionale, ma noi qui non procederemo a livello razionale. Non vogliamo fare i chimici, ma vogliamo contemplare l'acqua nel suo significato. L'acqua ha tre funzioni, l'acqua lava, l'acqua di seta, l'acqua dalla vita. Percorreremo queste tre funzioni dell'acqua attraverso le immagini della scrittura, i testi della scrittura, e deriveremo questa bellezza dell'acqua che dava, che risiede nella vita, anche attraverso i canti appropriati. però vi avverto che noi dobbiamo assistere a questa liturgia, così come uomini spirituali, con il cuore, non tanto con la mente. E adesso io vi dimostrerò visibilmente come noi dobbiamo assistere a questa liturgia. Ecco, prendiamo questo bicchiere, che vuoco. Questo bicchiere siamo noi. Noi possiamo versare l'acqua sul questo bicchiere. Mettiamo che io versi l'acqua sul questo bicchiere, e lo metto qui, la testa sopra, e verso l'acqua sul questo bicchiere. Vediamo quanto ce ne va. È vuoto. È vuoto. Perché abbiamo versato l'acqua sulla testa, e qui con la testa non facciamo niente. Adesso mettiamo il bicchiere vuoto, e allora nel cuore del bicchiere che versiamo l'acqua. Ecco, scatto è entrato. Così è più tenato dalla sua vita. L'uomo razionale non comprende il bicchiere che noi facciamo. È come Nicodemus che non comprende nulla. Tu sei nato in Israele e non ripetendo. Invece Gesù parla di un altro uomo che nasce dall'altro. È l'uomo dallo spirito. Tu sai che il vento sortia, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. E così che noi nati dallo spirito comprendiamo quel cuore, quello che noi diremmo. Ragionando, possiamo restare muti davanti a questo bicchiere. Invece, a prendere il cuore, comprenderemo il significato di quest'acqua, meravigliosa che Dio dà, proprio per amare, disfietare e dare la vita. Avete davanti ai vostri occhi tre bicchieri. L'acqua si trova così intestate nella vita. Come lo osserviamo? L'acqua liquida, l'acqua gassosa, l'uvole, l'acqua solida, l'acqua. Ma anche troviamo le acque, l'acqua del cielo, l'acqua chiediamo al Signore innanzitutto di essere lavati. O Signore, lavaci dalle nostre colpe. O Signore, noi vogliamo ripercorrere la storia della San Messa e vogliamo ricordare quel grande vento che segnò la storia del mondo, il di Lugia. Ogni uomo si era pervertito. Ogni carne era corrotta. Non c'era nessun uomo giusto. Tutti eri perversi di costume. La perversione, l'oscenità, eri di casa. Dovunque, tutta la carne era corrotta. Il peccato legnava sovrano. E allora di erisimo che facciamo. Distruggiamo queste umanità corrotte. Ormai mi accorgo che il male è entrato nel cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo di...istruggiamo queste generazione. E saltiamo soltanto il resto, noi che non si era corrotta, e ragionamenti che ancora non si era corrotta. E vendo l'altro e n' 03, andava in quel caso 15, 7, 12, 24. Nell'anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese, proprio in quello stesso giorno erupero tutte le sorgenti del grande abisso e le cataratte del cielo si aprivano. 16, 7, 8, 9, 10. Tutti volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè nell'arca, a due a due, di ogni carne in cui è il soffio di vita. Quelli che temivano, maschio e femmina, di ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque divennero poderose e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque si innalzarono sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in alpezza di quindici cupidi i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame, e fiere tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu sterminato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici. I rettili e gli uccelli del cielo, essi furono sterminati dalla terra e rimasto solo Noè, e chi stava con lui nell'arca. Le acque restarono alte sopra la terra centocinquanta giorni. Ecco, è descritto questo fatto con i pennellate che ci vanno di maniera di vitro e che noi accettiamo la fede, l'acqua che lava il peccato del mondo. Il peccato del mondo viene lavato, in realtà, da colui che è sceso dal cielo, qui sulla terra, per lavare il peccato del mondo. Nonostante il diluvio, il peccato ritornò sulla terra. Gli uomini continuarono a peccare, la nuova umanità non fosse sempre da peccato, perché, come aveva detto Dio, in realtà il cuore dell'uomo è corrotto, è rinunente. E venne il figlio di Dio, qui sulla terra, venne a lavare il peccato del mondo. L'uomo così e davanti al Signore, i miei profeti eserchieva, annunciavano. Già il profeta eserchieva una qualificazione che Dio avrebbe così apprestata agli uomini. Gesù, il figlio di Dio, scende in questo mondo ed egli scende nelle acque del Giordano. Nelle acque del Giordano, egli si carica di tutti i peccati degli uomini e seduisce il battesimo. Le acque del Giordano, come le acque della terra, vengono santificate e scendendo lo Spirito di Dio su Gesù e sulle acque, ecco che l'uomo viene purificato dal proprio peccato. Guardiamo adesso il grande Consolatore mandato da Dio agli uomini, il nuovo Noè. Noè infatti significa Consolatore. Quando nacca Noè, l'ame che sa moglie, i miseri in nome Noè, Noè. E significa Consolare. Dio ci consolerà nella nostra azione. E nessun vero Consolatore scende, consola l'uomo, liberando il proprio peccato e gli scende con tutto l'umanità nelle acque del Giordano. esutuisce il Battesimo. Chi crede in Lui, chi si integra in Lui, è salvato. Leggiamo Matteo 3, 13, 17. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò a Giordano, da Giovanni, per farsi battezzare da Lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse, lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni ha consentito. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. e noi in voi colui che è salva dal peccato di Gesù. Lui prefigura la salvezza chinandosi prima di andare a morire sulla croce dove il peccato sarebbe stato distrutto con la lavanda di piedi che si fa serva di tutti. Prenda la forma di serva umiliando se stesso il servus ad i penes ospiti nella classifica dei servi era quello che stava all'ultimo posto. Nella gerafia della servitù l'ultimo posto era il servus ad i penes ospiti cioè il servo benediente ospiti. Gesù prende l'ultimo posto nella servitù. scende agli inferi e abilisce dalle profondità emerge salvato l'uomo tutto l'uomo tutti gli uomini. Guardiamo questo gesto prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al padre dopo aver amato i suoi che erano nel mondo mi amò sino alla fine. Mentre cenavano quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giude Scariona figlio di Simone di tradirlo Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava si alzò da tavola che pose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita poi versò dell'acqua nel cattino e cominciò a lavare i piedi e gli scettoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Vede dunque da Simone Pietro e questi gli disse Signore tu lavi i piedi a me? rispose Gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci ma lo capirai dopo gli disse Simon Pietro non ti laverai mai i piedi gli rispose Gesù se non ti laverò non avrai parte con me gli disse Simon Pietro Signore non solo i piedi ma anche le mani e il capo soggiunse Gesù chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo e voi siete morti ma non tutti sapeva infatti chi lo tradiva per questo disse non tutti siete morti quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le resti sedette di nuovo e disse loro sapete ciò che vi ho fatto voi mi chiamate maestro e signore edite bene perché io lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i vostri piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni verso gli altri vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi come ho fatto io fate così anche voi questo esempio del maestro si esegue da parte dei nostri occhi e adesso chiediamo al signore di purificarci da tutti i nostri peccati sia lui a passare in questo momento in mezzo a noi a noi tocca mostrare il piede mostrare tutti i sensi nostri tutto l'essere nostro perché l'acqua è sua l'acqua del suo perdono l'acqua che sgorda dal suo postato scenda di noi e ci ravi dai nostri peccati purificaci il signore vieni preghiamo signore Gesù purifici le mie vado purifici le mie orecchie purifici i miei occhi purifici il mio cuore lavami da tutti i miei vicazzi voglio passare per te oh signore perché posso entrare nel convito e mangiare la tua parola oh Gesù io sono qui davanti a te sono il mondo tanta vetra ha credito il mio corpo tanti peccati hanno ferito il mio cuore sono spirito io sono il mondo oh signore lavami tu mi hai lavato nel battesimo ma ho bisogno ancora oggi di essere lavato lavato sette volte come lavassi un'ama nel silo nelle acque nel giornale e la sua carne divenne bianca e rosa come quella di un bambino oh Gesù ho bisogno ho bisogno di essere purificata mondata da te soltanto la tua acqua quella che sgordo dal tuo cuore mi può lavare lavati al signore e serò più bianco della neve e adesso l'acqua che riseta l'acqua estingue in fuoco la mia sete ecco tante volte noi abbiamo sentito la sete tante volte abbiamo bevuto alle sorgenti di acqua l'acqua è tante volte stata immobiliata all'emergenza portata a tavola ma tante altre volte abbiamo bevuto direttamente alle sorgenti l'acqua festa che di sete ma può anche darsi che dalla nostra sete abbiamo bevuto ad acque che era schifo era la sete faremo tanto e non abbiamo risciutato il nostro corpo la nostra anima ci siamo introscati ma adesso il Signore cederà l'acqua per il segno l'acqua che esce da lui l'acqua del suo spirito l'acqua che fece il gorgale dalla roccia nel deserto quando era Mosè lo scendiamo a te con la verga la vista la roccia che progiunge l'acqua noi ci risulteremo a questa roccia che è Gesù dove tutti essetati e venite l'acqua bevete ed invito che ci rivolge il Signore nel profeta Isaia 55 tutti abbiamo segno tutti siamo tutti camminiamo nel deserto veniamo l'acqua veniamo l'acqua veniamo a questa roccia battuta dalla ronda verga la verga della fede la roccia si ama questa roccia è Cristo e scoppiamo Esodo 17 1 a 7 tutta la tutta la comunità degli israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sime secondo l'ordine che il Signore dava di tampa in tampa e si accappò a Lefidim ma non c'era acqua da bere per il popolo il popolo protestò contro Mosè dateci acqua da bere Mosè disse loro perché protestate con me perché mettete alla prova il Signore in quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua il popolo il popolo mormorò contro Mosè e disse perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi i nostri figli e il nostro bestiale allora Mosè invocò l'aiuto del Signore dicendo che farò io per questo popolo ancora un po' che mi la videranno il Signore disse a Mosè passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele prendi in mano il bastone con cui hai percorso il milo e va ecco io starò davanti a te sulla roccia sull'oreb tu batterai sulla roccia ne uscirà acqua e il popolo berrà Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani di Israele si chiamò quel luogo Massa e Merida a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo il Signore è in mezzo a noi sì o no questa stessa domanda ce la rinunciamo a noi il Signore è in mezzo a noi sì o no molto facile dire sì possiamo facilmente cadere nell'illusione il Signore è con me sì o no bevo io l'acqua dalla roccia o bevo altre acque l'acqua dalla roccia è il Cristo che dono il suo Spirito io mi disseto allo Spirito Santo e lo Spirito Santo che riscede oppure cerco altrove di risedarmi cerco acqua verso gli uomini oppure cerco acqua nelamento in Dio ho sede di verità non sede di amore la verità è Dio l'amore è Dio la vita è Dio ecco una donna che ha seduto cammina con la sua brocca ma al posto di Giacomo a questo posto scavato nella terra anch'io mi sono seduto nel viaggio in Palestina a Rocco e quasi intatto su questo posto sedeva Gesù mi aspettava la Samaritana che veniva ad attingere acqua qui si innesse un colloquio tra l'acqua del posto che serve per gli uomini e per gli animali e l'acqua di un altro posto il posto del cuore di Cristo la sorgente eterna Gesù dà quest'acqua nuova l'acqua che tu bevi non di seta ma l'acqua che le do di seta perché l'acqua di vita la scoppiamo giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar vicino al terreno che Giacobbe aveva dato agli serpe suo figlio qui c'era il pozzo di Giacobbe Gesù dunque stanco del viaggio sedeva presso il pozzo era adesso a mezzogiorno arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua le disse Gesù dammi da bere i suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi ma la samaritana gli disse come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana i giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani Gesù le rispose se tu conoscessi il dono di Dio è chi è colui che ti dice dammi da bere tu stessa gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva gli disse la donna signore tu non hai dunque quest'acqua viva sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo greggio rispose Gesù chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sede ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sede anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua viva che zantilla per la vita eterna signore gli disse la donna danni di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua adesso ci alziamo ci prepariamo all'acqua che Cristo ci darà con il suo spirito e pregiamo Signore Gesù Tu sei stanco dal lungo viaggio Tu mi hai cercato per tutte le vie della Galilea e della Giudea e adesso sei stanco nel pozzo sulla sponda che mi attende sono io la samaritana che ogni giorno vengo al pozzo ad attingere attingere l'acqua che non di seta è buona per gli animali ma non è buona per me l'ho sempre seta ecco Tu ti incontri con me proprio nel luogo dove io attingo l'acqua che non di seta e mi offri l'acqua per il seta oh Gesù sei stanco di cercarci adesso ti sei fermato io adesso e ti incontro con me tu oh Gesù io gli acqua a me ma che acqua ti posso dare io dammi tu l'acqua tua dammi di quest'acqua che sgorda dal pozzo del tuo cuore perché io sei sono venuto qui quante volte a mezzo giorno siamo nel caldo del mezzo giorno come al tempo in cui ti incontraste con la samaritana sono nel caldo della mia passione sono venuto qui ad attingere l'acqua ma non mi sono dissetato adesso tu mi dai l'acqua l'acqua nuova tu attingi dal tuo cuore quest'acqua mi dai da bere l'acqua tua dammi quest'acqua signore discurgi il mio peccato e stingui la mia sedia oh Gesù io cerco la verità tu sei la verità io cerco l'amore tu sei l'amore io cerco la vita tu sei la vita tu sei colui che mi salva dammi di quest'acqua mentre chi ha le mie occhie si aprono le mie orezze si muovono le mie gambe e le posso annunciare agli uomini ai fratelli che tu sei venuto come la samaritana posso annunciare a quelli di sicara che tu mi hai svelato me e a me stesso che tu sei il salvatore del mondo oh Signore Gesù io ti chiedo di quest'acqua in questo momento ti chiede di una sete segni di te per poter bere l'acqua la tua acqua tu come narra Giovanni 7 e lì sotto il pontico di Salomone nella resta delle acque in processione veniva portata l'acqua dal progetto Cifo fino al Tempile e veniva spassa attorno e tu vedete la progettazione dell'acqua ridasti chi ha sedia venga bene bene Signore voglio rivivere questo momento e voglio essere dissentato da te guardate a destra prima a destra GIOVANNI 7 37 3 l'acqua di seta l'acqua ha la vita il giusto è come un albero piantato lungo un corso l'acqua nel tradizio terrestre c'erano quattro fiumi di acqua e tutti gli alberi erano fondosi e fuggiti a questo c'era la vita e nel centro c'era l'albere della vita figura di Cristo l'albero nella vera vita che maturava il frutto nella vita eterna ecco adesso andiamo alla tradizio terrestre e sostiamo un momento nella visione di quest'acqua che dà vita alle piante anche noi siamo il giardino di Dio se abbiamo l'acqua noi viviamo se non abbiamo l'acqua saremo come un tamerisco del deserto venisi 2 8 17 2 8 17 poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino poi di lì si divideva e formava quattro corsi il primo fiume si chiama Ison esso scorre intorno a tutto il paese di Adila dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine qui c'è anche la resina odorosa e la pietra paragonice il secondo fiume si chiama Gicon esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia il terzo fiume si chiama Tigri esso scorre ad oriente di Assur il quarto fiume è l'Eufrabe il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse il Signore Dio diede questo comando all'uomo tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene del male non devi mangiare perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti questi quattro fiumi formavano l'unico fiume questo fiume misticamente comparisce al lato destro del tempio Ezechiele 47 un evisale arginate dove l'acqua non pedono e non porta la vita il Signore ci invita ad aprire le barriere dove non aprire per fare entrare l'acqua della vita ci sono persone che ti ottenono a creare delle barriere perché quest'acqua non prende rimarranno nella roca trasferire non saranno riusciti o voi tutti che avete bisogno di vita aprite gli argini lasciate che l'acqua di un fiume perdono le vostre natura e si ne petta di farlo mi condusse poi all'ingresso del tempio e vide che sotto la foglia del tempio usciva acqua verso di entro poiché la cacciata del tempio era verso dentro quell'acqua scendeva sul lato destro del tempio dalla parte meridionale dell'affare mi condusse fuori dalla porta che sentronava e mi posse girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda a oriente e vide che l'acqua scaturiva dal lato destro quell'uomo avançò verso rientro e con una corricella in mano mi furò mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua e fungeva la calipra mi furò altre mille cubiti poi mi fez attraversare quell'acqua mi fungeva al ginocchio mi furò altre mille cubiti poi mi fece attraversare l'acqua mi fungeva al vento mi furò altre mille era un fiume che non potremmo attraversare perché le acque erano cresciute erano acque navigabili un fiume da non potessi passare a vado allora Ennio mi disse hai visto figlio dell'uomo? poi mi fece ritornare sulla sfonda del fiume voltando mi dite che sulla sfonda del fiume vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra mi dite queste acque escono di nuovo nella regione lontana scendono nell'alba entrano nel mare i boccati in mare ne risalano le acque ogni essere di vento che si muove dovunque arriva al fiume vivrà il pesce vi sarà abbondantissimo perché quelle altre dove giungono vi fanno e là dove giungerà il corrente tutto vi vivrà sulle due ville vi saranno pescatori da Egadi a Ennio Claude vi sarà una distesa di vecchi i pesci secondo le loro spese saranno abbondanti come i pesci del mare le vite a voi però le cefalide e le celelioni non saranno difamati saranno abbandonate al fiume lungo il fiume su una riva e sull'altra crescerà ogni storia di alberi da te le tue crone non appassiranno i loro frutti non cesseranno e ogni messina di loro perché le loro atti gogiano da stanzione i loro frutti serviranno come città e le cose torneranno di fiume ma signore io ti prego di aprire gli alzini della mia raguna perché nella mia raguna stesse l'acqua pura l'acqua del fiume io voglio essere guarito io voglio bestar O Signore, la mia parire vuole essere immersa dalle acque, io voglio nuotare in quest'acqua, io voglio la vita, o Gesù, ecco ti davanti ai miei occhi, ecco mi ritrovo a Calvario, tu col capo inclinato sei morto, sei morto per lavare il mio peccato. Sei morto per la mia salvezza, per la salvezza del mondo intero, l'acqua del tuo è penetrata nel mare della vita, nel mare dell'umanità. O Signore, ecco io vede un uomo erogino che si è vicino a te, ti dà un colpo di lanza tra figlio e tuo cuore e dal lato destro del cuore. Il cuore aperto, il cuore che ti spazza a scaturire prima il sangue e poi l'acqua, l'acqua della mia salvezza, tu mi hai dato l'acqua che mi dava vita. O Gesù fa che io veda te. Ma vedessi il profeta Zaccaria, vedranno colui che hanno profitto. Signore, io voglio chiudere questa visione dell'acqua, in questa mestacologia, rilegendo sul testo di Giovanni. e voglio rispettarmi di te, voglio lavare il teo, voglio trovare il teo da ricordo. Ecco mi chiamo Giovanni e poi il canto per il mio Dio. Giovanni dice il 9, 32, 33. I giudei siccome era giorno di preparazione, che in corpino rimanessero sulla croce di sabato, che il giorno di sabato era infatti solenni, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e venissero rimossi. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati procedissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trattisse il pianto e ne uscì subito sangue ed acqua. Colui che ha visto ha testimoniato e la tua testimonianza è verace ed è di santo, dice il vero, a finché anche voi crediate. Questo avvenne infatti a figlio che avventisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun altro. Se ancora un'altra scrittura, dice, guarderanno a colui che hanno trafitto. Non gli sarà spezzato alcun altro. se ancora un'altra scrittura, dice, guarderanno a colui che hanno trovato un po' di lancia gli trattini. lì lo è, lì lo è Gesù. Lì lo è, lì lo è, lì lo è Gesù. Lì lo è, lì lo è Gesù. Lì lo è, lì lo è, lì lo è Gesù. Assine il cieco nato riempie la vista. Lui è lì lo hand alegre del cuore di Gesù e una spiglia di tante acqua, un intero così con un occhio che non ci vedeva vien si acquistò la vista e disseicksale figlio di Dio, anzi noi dobbiamo riacquistare la vista. il battesimo è l'illuminazione. Dobbiamo tristare la vista e comprendere che Gesù è l'acqua che arriva e l'acqua che nave il nostro peccato, ci rissega e ci lava il peccato. Ripetiamo così il rito battesimale, brevemente, per rinnovare in noi la grazia dell'inimazione, perché possiamo riconoscere in Gesù, il nostro Salvatore. Ecco l'acqua che lava, il battesimo si lava a spiega e a spiega, ecco l'acqua che rispega, nel battesimo noi riceviamo la vita nuova, di verità e di amore, ogni desiderio viene codicato, ecco l'acqua che dà la vita, il battesimo ci dà la vita nuova, e allora l'acqua del cielo, l'acqua della terra, l'acqua del mare, sono congiunti in quest'acqua, rinnoviamo il santo battesimo, adesso passerete fino avanti a me, metterete le acque, cioè giumano e giumano, io verso l'alasca, e dirò per tutti, le segne di quest'acqua rinnova in me, Signore, e voi direte la grazia del battesimo, vi ungerete, se vivrete questo gesto, con pene, l'acqua, riusciremo la grazia del battesimo, e vi sentirete che si vivrete, vi sentirete, vi sentirete, vi sentirete, vi sentirete. Grazie. 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 Grazie.